Ha scelto la location montana pistoiese di Cutigliano la scherma a pistoia per il ritiro estivo di agosto delle squadre con tutti i ragazzi accompagnati dai vari maestri e istruttori e dal presidente Luca Magni. Primi giorni di preparazione in vista della prossima stagione agonistica con nuovi progetti e ambizioni. Siamo molto felici di essere venuti qui a Cutigliano, siamo contenti dell'accoglienza del paese e siamo felici che la nostra squadra, il nostro gruppo abbia potuto lavorare qui in montagna e soprattutto finalmente dopo qualche anno siamo stati in grado di poter realizzare un ritiro estivo tutto nostro. Ci interessava perché comunque la coesione del gruppo sembrerà strano ma è molto importante anche in uno sport individuale come la scherma. Io lo dico sempre, la scherma non è uno sport individuale, è uno sport di squadra perché se non hai l'avversario picchi la spada nel muro ma non ti diverti. Quindi è stata un'esperienza molto molto bella, ripeto ringrazio Cutigliano per l'accoglienza e naturalmente spero che ciò sia servito per gettare le basi per una collaborazione lunga e noi avremmo piacere di essere davvero qui tutte le stati, speriamo. Diciamo che è un anno nuovo, c'è stato un interruttore, una vacanza un pochino prolungata e poi di vacanza si può parlare poco perché comunque anche a livello, insomma a casa da soli uno si è sempre allenato e con la propria preparazione è un ripartire da capo, un nuovo anno e uno come sempre si allena e punta in alto.